ciao da goccia idragame stana dei goblin di perugia oggi andiamo ad aprire un gioco che c'è il suo tempo ma nel suo tempo è un bel gioco per chi gli piace per chi si diverte port royal di alexander pister la big box dove all'interno la pegaso spirit ci ha messo tutto quello che ci poteva stare da una cinque giocatori durata 20 50 minuti come dentro lo vediamo tutto quello che c'è il gioco base i vari spazioncine e la promo un gioco che è stato venduto un bel po per tutto il lobo ma andiamo a vedere che cosa contiene questa post royale sospetto delle carte a dire big box ma ho letto portoriato ma nessuno di niente e che di qua qui c'è il flyerino spiega le spazioncine ci sono il regolamento come sempre illustrato spiegato dove si spiega tutto quanto come se dice poco pop 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 intervenzio e degli sp dialoni 20 per la espansione e di entro roveremo questi alzitici magari perché ci vuole in case dire soldi abbiamo una espansione qua abbiamo un'altra delle espansioni ecco il rituale eccetera 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 e tre mazzoni di carte con la grafica mentre il primo gioco era molto più fumettosa come grafica qua abbiamo la grafica un pochino più seria non dispiace comunque sia buona e qua il gioco e giochiamo le carte in pusher luck dove giriamo le carte e finché non arrivano le barchette possiamo prendere le carte che ci sono poi a turno bel pusher luck molto molto simpatico in questo mazzo poi qua abbiamo l'altro mazzo linguettine alla vecchia maniera e alla vecchia scuola altre cose che questo deve essere il mazzo base si e già chi deve essere c'è anche spazio per poter imbustare tutte le carte e poi quando sicuramente abbiamo un'altra e spazio cina che espande l'espandibile di questo gioco decisamente sì ecco abbiamo un altro spazio cina bello bello tanti mazzi di carte sotto il plasticone non c'è nulla confermo non c'è nulla rimettiamo i cubetti dove devono stare questo dove deve stare e diremmo che questo è tutto per quanto riguarda la big box di port royal della pegasus peter e di alexander pister detto questo ciao e alla prossima